ciao a tutti quanti un consiglio per youtube andate su impostazioni e mettete la qualità video a minimo 1080 dato che il filmato è registrato in 4k perciò si può vedere molto bene buon divertimento giovedì lo sapete che giù hanno fatto una variante no variante visibile quando si arriva giù l'ultimo pezzo fede è presente che a un certo punto entri sulla ghiaiata per andare a fare l'ultima parte ci siamo venuti anche ad allenare quando arrivi giù che tutti sbagliavamo tiravano dritto invece di andare a destra dove c'è il pacchetto in legno hanno fatto una variante è scritto vecchia di h è un muro così senza senso e finisce subito io io sto a destra che è più bella guidata allora noi scegliamo tutti la destra però vedete voi fate quello che vi pare un muro senza senso non I love your precious heart I... I was standing You were there Two worlds collided And they could never tear us apart We could live For a thousand years But if I hurt you I'd make white promise tears I told you That we could fly Cause we all have wings But some of us don't know why I was standing You were there Two worlds collided And they could never Ever tear us apart And they could never I don't know why I was scared Grazie a tutti 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 Grazie a tutti